Questa è la tua prima volta qui al Salone dell'Autoparco del Valentino? Sì, sì, è la mia prima volta anche, diciamo, nell'ambiente dell'automobile così vicino. È una bellissima esperienza comunque essere in contatto con proprio la forza e la potenza. Di queste auto sicuramente, quindi dalla forza e la potenza dello sport alla forza e la potenza di questi motori che sono sicuramente sportivi perché a questo Salone tante supercar. E poi penso anche un pizzico di arte perché non credo ci sia solo la potenza ma sicuramente l'arte, il design, la creatività che come nel mio sport ci sono sia lo sport che l'arte ecco. E questa sera tu sarai testimonial di Suzuki e parteciperai alla Supercar Night Parade? Sì, sì, sono abbastanza emozionata, vediamo, ma dobbiamo ancora decidere chi guida. Tu ti presteresti a guidare quest'auto che è comunque un'auto abbastanza imponente? Sì, certo. Che rapporto hai tu con l'auto? Ti piace guidare? Sei sportiva? Una guida più tranquilla? Ma diciamo che mi piace guidare però la uso maggiormente per spostarmi, non è che guido tanto per divertimento. Penso che guido abbastanza tranquilla anche se mi piace arrivare. Ecco, quest'anno questo Salone punta l'attenzione su un messaggio secondo me anche molto importante. Le auto sono sportive prestanti però si guarda alle auto del futuro, quelle elettriche, quelle più rispettose dell'ambiente. Beh, è una cosa molto importante perché la consapevolezza anche che bisogna rispettare l'ambiente per un nostro futuro, per la nostra salute è importantissimo e quindi lo trovo una cosa eccezionale che si mette un po' l'attenzione anche al riguardo della nostra bellissima natura. Bene, allora buona Car Parade! Grazie!